Bella a tutti ragazzi, qui è Canelupo e di nuovo un ranked team alle qualificazioni 3 vs 3 e siamo in compagnia di Dr.Cow e Tecno No, sono Tica Esatto, a presto Dr.Cow si chiamerà RNT Cica Perché si chiamerà Cica, cane? Eh, dai, non si può dire, dai Allora, questa è l'ultima delle qualifiche, siamo 2-2 perché Tecno ci ha fatto perdere due partite Eh, cane sono bronzo 1, bronzo 1 e bronzo 4 Davvero? Che cazzo dici? Te lo giuro, vai solo nel Nexus Cazzo è bronzo 1, sciacca è bronzo 1, Wokong è bronzo 4 Davvero? Potendo che KZX e Wokong erano in Silver la cosa scusa Ma tol cazzo capitamo, bronzo? In bronzo è, per forza, abbiamo perso 2 Eh, abbiamo perso 2, l'altra volta abbiamo perso 1 E eravamo capitati in Silver 1 Cazzo è un'altra con Gragas, dj No, l'abbiamo perso No, l'abbiamo vinta No, l'abbiamo vinta Alla fine Stupido Beh, colpo di culo ci voleva Ma sì, poi è una persona perché ci crede ad andare via Esatto Allora, innanzitutto Per vincere una partita Bisogna fare questo Non, non, non giocate con noi perché perdiamo Cos'è che bisogna fa? Ho fresciato Esatto Inferno a meno, ragazzi, è Così, no? Scusa, a sto punto Io faccio così, no? Perché dove vuoi saltato? Per fare questo Ok Ragazzi, voi pensate che stiamo trollando? È vero Stiamo trollando Stiamo trollando Guarda dove si è messo Tecno, cica Tecno Tecno La tacchia Dovete sapere Che il nostro caro amico Tecno Non lo facciamo mettere qui perché Quando diciamo Tecno, non c'è bisogno che coveri Vai sopra Sapete che fa? Tipo, 10 partite E' morto perché lui voleva stare qui 10 partite E' vero, 12 Una Andiamo Andiamo, Tecno Andiamo Andiamo a fagli il culo Tecno No, poi tu scapi L'altare, l'altare Eeeh Ah Non c'è nessuno Oh, sto qui Ah, no, è malpite Ah Come via Fermate qua Fermate in mezzo alla mappa Non te vedono Fermate in mezzo alla mappa Ecco, fermo, fermo Ora pensano che sia un pilastro Oh mio dio Chica Ti ricordi le summonerigung così? Quale? C'è una summonerigung così io questa si forse ce l'ho eppure io ce l'ho a me di te quando shoppare dal venti d'avamo quella roba lì si ma la mappa ancora devo uscire minchia oh c'è adallo quindi 2 anni fa ma adesso mi avetti nel tuo figlio i segreti di caldo questo non lo sapevi po' è tanto che non hai scena quella brutta serie eh perchè non trovo più nessun segreto non trovo più cattate da dire ma ormai sono finiti sono finiti vedete che tua madre si chiama gressina ecco questo e che potrebbe dire dai tecno no no oh vale la mamma di tecno si chiama gressina e cicalino cica dai oh si chiama mattia cichetti e la vita dai basta dai basta dai basta hai continuato le palle hai continuato le palle dove l'hai provato dai mi sei venuta capita venite mi ha trovato ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito perchè non ho capito si chiama mattia cecchetti cecchetti con la c c c c c c c c u 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 e finisce con ugo oh sciaco l'ammazzo di botte dove sei? ah subito ah scappi eh scappi ora non picchiano arriva proprio quando dotecchica quindi io non vengo vengono vengono a soltare oh c'è cazzesco ah no grazie oh ho detto che arrivavo qua un zoom ascolti ma ci facciamo poi niente che io e chica chica sta qua eh ho beccato eh tecno sei scemo zitto zitto guarda che su lui è cane di me coglione zitto dio che idiota ma sei stupido ciao eak si ma vai a prendere l'altare? il nostro altare? io faccio il muore voglio detto che non è capace non ho mai tanto mi faccio violare no no vai ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah muacchia riuscire a fare moore è una cosa che c'è un certo capisci da te non fa niente no ma in realtà la doppia v danni tecno ti devi mazzare la doppia v e ti devi comprare la tiamat primo item forse così scoprono e la tania vincente un corso ma fa i quali ho visto io ho visto vict di credere quello degli evil genius che ora gioca per gli ala l'alliance mi pare non è che se lo dici il quattro millenium vabbè e giocava a malfit e quadri è sciuttala si allora la faccio anch'io ma tanti shen tipo anche shen tanti lo fanno alla fine parliamo di malfit e lui parla di shen vabbè no anche shen è un tanko si ma che c'entra è tipo malfit tankano da fa schifo non so perchè mi ha portato la doppia v 2 così a buffo ocio occhio a ooo eeeh fida wukong aspetta 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 ecco qua uff e perchè tu non hai chiamato ss però fa niente ecco a me fra 19 secondi c'ho il flash a me fra 19 secondi c'ho il flash a me fra 19 secondi c'ho il flash com'è possibile che io ce l'ho tra 8 e ho flashato prima di te eh! e ho flash a mo' fatte! c***a c***a me stavo rispondi c***a mi stavo ti ah! ma io ho flashato attraverso la teoria quantistica io ho ragione oh cane ss cane è qui! cane! cane! ho capito ma io devo farmà che come? farmami da hill se te a me mori, se te a me mori ma che cazzo? ma shako c'è, ma shako è shako buongiorno tecno, buongiorno tecno non si cave di niente tecno di niente tecno ancora per poco ma sono in gold ancora per tutto, eh? ah mo? che direi, coglione, che direi fa? va via e botte, va via e botte ma d'ora vai non è il flash quello eh e io tra poco c'ho prendi la pugni, prendi la pugni, pisello lungo prendiamo pugni anche lui cane I don't care slow, 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 slow eh grazie slow, bravo ma è stupido, adesso va la W cioè la... è ma idiota questo eh! stupido si è messo lì a poca flashata ma termine che si ma cazzo se capitammo un... bronzo 1 bronzo 5 speriamo... ecco, ecco meriteare di nuovo per un altro team no però 5 su 5 su 5 nooo questa volta non lo facciamo fino a qua non siamo tutti in gold ma si cazzo nei 5 su 5 siamo... 3 su 3 non arriverai mai gold a mattino torni in bronzo però va bene tecno ah si guardate shh ah eh 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 cioè ragazzi siete 2 a 2 cioè siamo 2 a 2 perchè alla fin... eh ma io sto 2 a 1 perchè non so tecno che fida che è 0 a 1 guarda dove siete tecno guarda dove siete tecno ed è fk ed è fk ed è già ed è fk ed è fk ed è fk lascia io minion e lascia... tecno tecno ma la smetti ma la smetti di fare cosa? niente c'è wukong qua eh se ti interessa ah bene tu la di smyton minion parla quante fk dici nooo guarda che stai per morire o scemo omo cazzo omo cazzo omo cazzo omo cazzo omo cazzo chiediamo farin bambini andiamo io ho scoperto progettivo tecno 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 lo vedo l'ulto devo lasciare no no devo dare ok ho fatto la chiamata diciamo non parma un minuto lo dio io in realtà le volte qua ecco la uscita d'odore famoselo non è più lì ecco lì buccia buccia chica vieni aspera gli devo fai mignon della giungla ma c'è un coso quando vuoi tu devi prenderlo di ehm aspetta è arrivato vgong c'è vgong e cazzezza perchè io ho il fair play nell'anima vabbè ho già questo vada oh ma ti picchio ora mettiamo adesso lascia stare il mio amichetto eheh 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 no perchè io te ci vengo chi significa vieni qua shhhhh è il mc chelta mori che le porto cane ho paura cane le hai portato cane le cazze stanno dai seguendo il clone di cane mi ha fatto a morire, siete due in merda certo abbraccia un'altra spazio no io sono morto, quindi ho un po' fastidio guarda che c'è dvv lo utilizzato, vabbè si infatti veramente ci cava ai pennelli volen anche se mi sa che fai che si è chiusa no basta, cerchiamo di finire la quindiesima regalino così mi faccio il freddo nerd poi mi faccio il perchè i freddo nerd sono tutti a p ma che cazzo dici? fatti una besta scelta per forsitemi ma sei idiota e non ce ne muro a p vabbè Tecno sei scemo ma lo vedi? allora cazzizza ha la W a p vgong ha la W a p tacco ha la W a p e pure la E che cazzo è arrivando you can't touch me no è vero finito Tecno sei veramente una persona ci sto Tecno ci sto guarda quando hai dato a quanto qua uno nooo noo noe ma dò vai? no t'ho visto no voglio frelare è mitä una idiotica non t'è la mia dai dai oh qua qua Tecno vai qua Entra di ultimate? No. Sì, 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 sì. E vai qua però! Cazzo, sono tre anni! Eh, così lui, va! Fai di così! Fai così! E poi, via! Non so come ho fatto, becco! Sinceramente non so come ho fatto. Prendetelo, prendetelo! L'ho sne... no, sì, l'ho sneerato, cioè. Ma che sono stato? L'hai messo il tier! Guarda che viene passato per stilare! No, in realtà quello si fa il culo al ciclo! Eh, le blanche! Oh, cane, prendiamo anche Shaco, c'è l'ultimo. Aspetta, aspetta, che mi si ricarica un po', ma... Non so che io ho ilto per tre secondi, due, uno, c'è l'ultimo. È un po'. Eh, non c'è l'ultimo. 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 Eh, adesso lui viene l'ultimo e muore. Però tu devi prendere le ski, questo è l'importante. Un sorriso non lo perderò mai. Vai, vai, ci cosa si accada. Non c'è l'ultimo. No, 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 no. Non rai. Oh, dai, corri. Scala, c'è l'ultimo. Ah, no, nè, 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 nè! Cazzo. Odita c'è lì. Tecno quanti milioni? Prendotre. Tecno quali ti miei tecno ai? e tu madre è vergine, e tu madre è vergine magari e magari non si chiama non lo dio, non lo dio perchè poi potrai avere repercussioni che non voglio zitto pensa se la madre dei tecno si vedete questo video ahahahah vabbè quando viene qua a casa gli faccio vedere video mi mamma ne è buona accendere computer figuriamoci mi mamma ne è capace a chiudere video su youtube qui non c'è una double kill mi sa ahahah cittadino fatta posizione e anche più squisci lo facciamo un po l'anima di alba l'armi bernardo bernardo baca ho paura cane cane cazzo merda cane cazzo merda ho messo permesso per me stavolta in un coglione mi sto chiamando bambino ma se non è che ucciso per me perchè c'è la monta di scopo c'è una cittadina di fermare con i suoi rumori ignorante capone che non sei altro no aspetta 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 facciamo un po' facciamo un po' di copyright chissò ricorda mi sa che ho fatto un po' male quella degli angry games come era tecno c'è esatto mica basta che poi ero non so io c'è io c'è io c'è io no ma vieni ma tu non mi ha appena chiesto state vincendo si tecno sta affidando 1 3 3 un faccia un faccia bugonga un faccia staccito eh sto qua coglione ah va torna a casa torna perchè torna a casa torna perchè torna a casa torna perchè torna al 7 da dove li ha cagati fuori i livelli con lo scioglio tecno li pigli più esperti tecno sto arrivando potresti anche andare mi sa bugonga oh c'è bugonga non c'ho l'ultima cercali cercali fai del male fisico vai c'è sto vai cazzo sono ho finito qui so qui so qui so qui vai 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 no no sotto torre ecco no cazzo di giochi in the box di in merda sai c'è un dati quello sciato prendi l'altro giochi in the box prendi l'altro giochi in the box ma guarda questo ecco il scemo di in merda non ci trova neanche persone non lo guardavo in spiagno ma non si è il mondo del box ho te distanzito dio mio che non lo puoi notare non ancora abito perchè si ama silenzio e beh eh sto di qua eh ah shhh guarda 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 non mi vedo ah mannaggia quello sta avanti a quel cuore eh mi ha schifato oh ma datemi una mano porco il demono son lui chi la logica vai si ok no 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 mamma mia chica killalo guarda è sciato quello falso se ci vado o muoio oh non c'è un cuore ma killa fu un cazzo e killa eh prima no eh prima no eh prima no eh vabbè fk io ho fk basta 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 lascia morire gli altri basta adesso mi faceva tre fuori faceva ma scritto sta fiddando tecno ma certo scusa eh ma che domande so ma ciò non puoi giocare perchè c'è il mero troppo basso non per cazzo io non ho colto no no tecno non piangere dai dov'è che hai adesso l'insulto rn ti faccio cuore dov'è di mortaccio bene ma non c'è faccio ma non c'è faccio vaffanculo cane ma scritto sull'ho forza testa di cazzo appunto ah già perchè non stai in partita stupido eh tecno ma che cosa stai dicendo sta delirando il povero ragazzo sta delirando è il delirio di alo basso più alto del tuo ovvio però nello spirito no eh lo so scusa accettarmi che tutto andasse liscio come al solito oh aiuto regà aiuto dai glielo dai glielo cane sto arrivando sui casi via via ahhh fanculo 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 c'è la sciacqua di qua si ha ma l'SS faccio ultimalo 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 fanculo no mi fossa mamma stronzi figli di puttana ultima via tecno tecno muori per me per favore tecno vedi oh guarda mo perdiamo contro il bronzo ma fatelo del culo eh eh vada e se perdiamo di sicuro è colpa di tecno ovvio quante morti hai? 5 tecno 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 vabbè ho partecipato anch'io a 8 kill comunque giusto no no va bene tecno va bene tecno giusto si bene tecno basta dai tecno era tanto non ti scommettiamo commettiamo scommettiamo che non ingaggia più vabbè e mo che stai a fare se magari ti tanchi tecno puoi anche ingaggiare sto provando proprio però se già ho i full api non va bene voglio fare anche questo perchè? ma non ti serve più ormai cioè non siamo nella laning phase ormai ma te la fai subito ma che cazzo dici? ma che cazzo dici? eh ho capito ma se ti volevi fare la trinity ma allora pisci penso volevi fare ma no percorrere ma cosa ti serve tecno? si che voglio fare danno dai su voglio essere un malpaticcione sei stupido fatti il gauntlet a quel punto hai le prime fasi del regio queste sono eh giusto io ho mutato tecno non ti serve non ti serve ragazzi non ci sono ok la teglia di cazzo dici vai fatemi c'è anche c'è anche qualcun altro è un bingolo non lo vedi tecno si lo so è lo visto anche in cannes ciao di qua tra l'altro toshio ma è stato il mio mimo non credo proprio dire questo non gioca troppo abilità usciò tecnolo busci ma comunque fatti la trinity non te fai il gantlet ma come? no 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 fatti la trinity ma fa un quattro due fatti la trinity c'è che so ma che è il mio merda ho ultimato da ultimo ahi mo che cazzo fai ora devi sta in team tecno ma e puccia la lente stai in team tecno non fatti a trinity non fatti a trinity non fatti gandlet non fatti a trinity ma fanzimo eh me lo faccio di niente dai tecno non ti fanno danno dai mamma mia madonna chi li stai regalando le heal voi lo fa finta di niente tecno non si stai facendo shika ma tu sei nabbo anche te tecno fai il vago fate i vago mamma mia sono morto ma non sono la trinity ma ha avuto fortuna aveva l'oracle l'ho visto decidete vi la trinity o gauntlet il gauntlet il gauntlet ma la frose è nerte che cazzo se lo va a fa il gauntlet ho capito ma il gauntlet lo va a tutti e almeno eh no si fa la gauntlet insomma in dopo no no fatti la trinity tanto caga i soldi lui si appunto no io eh 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 la cazzo lascia il minion cane ah si 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 la trinity costa 4 milioni di eh eh allora tu vorresti allora io probabilmente tu mi stai dicendo di non fa questo giusto pronto se non la faccio il gauntlet vabbè ad evoltrop vabbè vabbè anche io dai anch'io perchè lì sta a quattroeting il colg bz Mangia ho employo gacce che ci diciccia fatica fa il vago fa il vago ehh ecco fai scuofato non quello ma non ok fallo Ullo cibo, stronzo! Mo? Mo che cazzo fai? Quello, quello, ridati! Stupido nico, non cicalino! No, che ne hai fatto? Perché non sto sto qua, co***e? Non mi vedi più, eh? Andiamo, andiamo Andiamo... Tecno, ma che cazzo fai? Guarda che non lo prendi, non lo prendi così, Tecno Guarda, eh, guarda Ah, ecco, che cazzo fai? O lo prendi o non lo prendi, Tecno? No, tecno, tecno, non l'avevi in spalla! Basta di lui dicere le cose tutti insieme Cica! No, no, no! Ecco! Ma che cazzo! Che finazzo! Qual'è? E' questo, è questo E' quello con la Y sopra la testa, no? Mi piace, è un nuovo gong Ah, FASCIA! Guarda, eh, guarda, eh Eeeh! Eeeh! Aiuto! Ma hai iniettato Ah, bravo roccia! Brava roccia! Brava roccia! Madonna, se ripensa al video di prima, che si mimetizzavano! Ah, ahahah! Tipo, c'era Malphite che andava dai golem, eeeh, Renekton che andava dai lizard, e poi c'era Warwick che andava dai lupi Eeeh Che cazzo c'entra questo Ci vana dal drago? Ci vana dal drago E nocturne dai cosi, dai streghe E tipo dalle ward? Io riporto Tecno Io riporto Tecno Io riporto Tecno C'è Tecno, dopo questa puoi anche morire sotto un treno Ok, vado morire sotto un V-Kong se vuoi Dico V-Kong Scappa Scappa che si Fai un coglione C'è Shaco Ci so, ci so, ci so Shaco, Shaco, vai ultima Shaco, prova, non è che c'era poi il 25 Cos'era quello? Non era Grasp Era Grasp da Rocco E moa C'è stravergno Quello pesarta, quello pesarta Ah si? Boom Aspetta, demoralizziamoli No, tutte le volte che lo fai si va a perdere Ma perdiamoli ogni volta che lo fai E' come se Chica usa con gli Sin Ci ha detto? Ah, è vero, se io uso... Ragazzi, Chica pensa di essere bravo con gli Sin, ma... Non lo so usare, cioè il Chica non sa giocare Va bene Io ho detto guarda vedi il video di... Ragazzi perché il jungler è sopra i vostri livelli? Ha più farm Ma perché il jungler è stato tutto il tempo nelle nostre lane? Di sicuro è più utile di qualcuno E comunque abbiamo detto con gli Sin Non so se hai sentito la parola Ragazzi... Guardalo, guardalo, guardalo Guardalo, guardalo, guardalo Guardalo! Guardalo! Ancora... Chica, ingaggia? Tecno Sto facendo il vago Sto facendo il vago Mi sa che mi sono accorti che stavo facendo il vago Che veloce... Ci sto, ci sto, ci sto Holy shit! Holy sin Chica ci sono, Chica ci sono, vai 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 Aspetta, ora! No, ho mancato uno Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Quando uno è forte Eh, è nabba Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Non è ancora qui! Allora, vi sto facendo sto saluto prima perché dopo Ovviamente vedremo dove siamo capitati Ragazzi non parlate perché prima che mettere le impostazioni Dello schermo io devo vedere, capito? Bronzo 3 Ok, mettiamo subito Ma leviamolo per lei Per me è bronzo, per me è bronzo 3 o 4 Ok No, dai bronzo 2 Vittoria Ora vedete lo schermo nero però tra poco vedete Continua Oh! Eh, è stupido Perché è stupido? Silver 5! Vaffanculo! 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 Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto un bel like sotto Condividete il video perché Si Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti O la pagina Tecno Esatto Cica non Escrivete Tecno un hub di merda E Cica non è capace con le sin Mettete mi piace alla pagina Facebook Bella a tutti ragazzi Dal team RNT D Dai E E E E E E